Quando parli ai tuoi figli di felicità di questi temi, che linguaggio usi, che cosa racconti loro? Una cosa carina che gli ho raccontato per fargli capire che cos'è la spiritualità in un modo molto semplice è stata attraverso una piccola favoletta che ci siamo inventati che io ho chiamato la teoria delle tre galline e questa teoria delle tre galline dice sostanzialmente questo, che quando gli esseri umani vengono al mondo gli viene dato in dono un patrimonio di tre galline che loro devono assolutamente tenere in vita, in salute e custodire, proteggere e ovviamente se lo faranno ne avranno in dono le uova e quello che queste galline riescono a produrre. Allora queste tre galline sono il corpo, la mente e lo spirito. Cosa succede normalmente nelle nostre vite? Che noi sbilanciamo questi rapporti dando più importanza a una gallina piuttosto che a un'altra. Se noi non consideriamo di avere anche una gallina che si chiama spirituale o immateriale o trascendente e soprattutto di questi tempi in cui siamo in qualche modo saturati da un atteggiamento più materialista nessuno sa di avere una componente spirituale di cui si deve prendere cura per avere armonia. Quindi non nutriamo la nostra spiritualità di nulla. Come si nutre la spiritualità? La spiritualità è un bene immateriale di cui noi disponiamo e si nutre di beni immateriali. Per esempio il percepire la bellezza è un aspetto spirituale, la musica è un aspetto spirituale, la preghiera è un aspetto spirituale, la ritualità religiosa può essere anche un aspetto spirituale ma tutto ciò che nella nostra vita ci dà nutrimento immateriale nutre la nostra spiritualità. Se noi ci troviamo in un bellissimo paesaggio in mezzo alla natura in quel momento la parte che sta godendo di più dentro di noi è la nostra parte spirituale insieme a quella corporea e quella psicologica. Sono tre istanze che devono essere in qualche modo curate tutte e tre e ci deve essere armonia tra queste tre istanze e quello ci dà la nostra condizione di maggiore felicità ma anche di maggiore salute.